Musica Ben ritrovati con lo spazio informativo di TG Veneziano e abbiamo qui con noi oggi ospite del nostro studio l'avvocato Marco Giorgio, gestore della crisi di sovra in debitamento iscritto alla lista presso l'organismo istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia crisi di sovra in debitamento, che cos'è? Allora, la crisi di sovra in debitamento è quando un consumatore o comunque una persona che non può essere dichiarata fallita si trova in una situazione in cui non riesce a far fronte ai propri debiti Quindi parliamo soltanto di consumatori e non di imprenditori di consumatori e di imprenditori che non possono essere dichiarati falliti per vari motivi Ma questa legge 3 del 2012? Questa legge 3 del 2012 ci dà degli strumenti per gestire queste situazioni di sovra in debitamento e prevede degli strumenti che possono essere utili ai consumatori per risolvere questi problemi e per risolvere il loro problema di sovra in debitamento Che strumenti prevede la legge? Un passo indietro, quando parliamo di sovra in debitamento di che cosa andiamo a parlare? Ossia una persona che... È una persona che nel corso degli anni assume dei debiti Parlando di un consumatore facciamo l'ipotesi di uno che si fa un mutuo per la casa poi si fa un prestito, un finanziamento per l'auto poi per la televisione, per fare le vacanze e arriva a un certo punto per cui non riesce più a pagare non riesce più a pagare e quindi si trova in una situazione in cui deve cercare di risolvere la questione perché se no non riesce ad andare avanti e a questo punto si inserisce il meccanismo i meccanismi previsti da questa legge che gli consentono di gestirla e di venirne fuori con un po' di pazienza, un po' di soldi deve comunque metterli dentro però insomma con l'aiuto del gestore della crisi e quindi di questi organismi che sono previsti da questa legge riesce, se va tutto bene, a farsi omologare poi un piano del consumatore o un accordo con i creditori riesce a farselo omologare dal tribunale in modo tale che poi la situazione con il tempo viene risolta Ci sono però dei criteri Ci sono dei criteri per poter accedere a questi strumenti Innanzitutto quali sono gli strumenti? Sono sostanzialmente tre i primi due sono forse quelli più interessanti che sono il cosiddetto piano del consumatore che è rivolto solo ai consumatori oppure l'accordo con i creditori che è rivolto anche ai soggetti che fanno attività di impresa ma non possono essere dichiarati falliti oppure la liquidazione del patrimonio I primi due sono quelli più interessanti il primo, il piano del consumatore è rivolto solo ai consumatori che si trovano in una situazione appunto di sovraindebitamento e consente a chi è meritevole quindi chi si trova in una situazione di sovraindebitamento non per colpa sua Per cui nel frattempo facciamo un esempio pratico, concreto un finanziamento un operaio guadagna al suo stipendio poi però decide di fare un mutuo per la sua casa nel frattempo perde il lavoro non per colpa sua e quindi si trova nell'impossibilità di pagare il mutuo per la casa allora a questo punto questo operaio si rivolge o al tribunale che gli nomina un gestore della crisi o appunto all'organismo direttamente in questo caso presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia che gli nomina a sua volta un gestore della crisi e propone un piano per esdebitarsi sostanzialmente per risolvere questa crisi il piano cosa può prevedere? può prevedere una riduzione del proprio debito e una rateizzazione del proprio debito in questo caso tu mi hai fatto solo il caso del mutuo però è più frequente il caso del mutuo più altri debiti può essere anche il bollo auto non pagato debiti con l'erario quindi propone un piano e può dire per esempio il mutuo devo pagare ancora 100 ne pago 90 e lo pago in rate più lunghe rispetto al mutuo lo stesso vale per il bollo auto non pagato i bolli auto non pagati i debiti con l'erario o quelli con gli altri creditori si fa assistere da questo gestore della crisi il gestore della crisi analizza tutti i documenti che devono essere proposti e a quel punto una volta che la situazione è chiara e il gestore della crisi certifica la bontà del piano proposto si va in tribunale il tribunale lo omologa e quindi la situazione poi si risolve chiaramente non deve essere una proposta eccessivamente lunga nel tempo però insomma la proposta si avvia a conclusione e uno riesce a vivere anche perché poi è previsto comunque un accantonamento per la vita di tutti i giorni sì quindi l'accantonamento e la risoluzione poi dei debiti però in questo caso i debiti possono essere completamente possono essere solo ridotti possono essere ridotti o possono anche essere estinti allora non possono essere completamente estinti per essere estinti devono essere pagati possono essere ridotti possono essere dilazionati e questo in proporzione alla quantità di danaro volgarmente che una persona è in grado di mettere in questo piano quindi io guadagno mille e mi servono 500 faccio un'ipotesi per vivere al mese e questi li metto da parte me ne restano 500 e propongo di distribuire questi 500 ai vari creditori e deve essere una cosa ragionevole ovviamente cioè non è che posso dire a uno non do niente e all'altro do tutto quindi deve essere fatta una cosa equilibrata e il gestore della crisi il gestore della crisi deve attestare che il piano è fattibile deve attestare che si tratti di un consumatore deve attestare che il piano è fattibile anche per il consumatore stesso insomma in questo caso quindi con il piano per il consumatore non è necessario l'assenso dei creditori che invece è necessario per la seconda è l'accordo con i creditori in questo caso è necessario per questo tipo di procedura diciamo che a questo tipo di procedura si può rivolgere non solo il consumatore in senso tecnico il vero e proprio ma anche l'imprenditore ha dichiarato fallito e tende a ristrutturare il debito quindi fa un piano il pagamento rateale diluito nel tempo deve ottenere l'assenso dei creditori del 60% dei creditori e anche questo poi passa per l'omologa al tribunale nel momento in cui il tribunale omologa il piano se ci sono tutti i presupposti il debitore diciamo così riesce a gestirselo con pagamenti rateali diciamo vincolo a tutti anche quelli che non hanno prestato l'assenso quindi i vantaggi in realtà di queste procedure sono sia per i creditori che anche per i debitori sono per i creditori anche per i debitori per i creditori perché alla fine comunque si va ad esaurire quello che è stato il credito non proprio iniziale certo hanno una speranza di recupero in un tempo determinato è prestabilito e il debitore riesce a vivere con un piano di ristrutturazione o comunque di previsione di spesa ben determinato nel tempo ci sono anche diverse agenzie che propongono questo tipo di servizio però attenzione attenzione allora per approcciarsi a queste procedure per approcciarsi a queste procedure occorre farsi assistere non è obbligatorio nella prima fase ma comunque è consigliabile farsi assistere da un professionista serio quindi il professionista serio può essere un avvocato un commercialista uno che sa di numeri e di soldi e ci sono delle agenzie che offrono questo servizio predispongono il piano portano il consumatore davanti all'organismo insomma bisogna stare un po' attenti e selezionare bene i soggetti a cui ci si rivolge per approcciarsi a questo tipo di procedure perfetto e comunque tribunale organismo istituito dal consiglio degli avvocati di Venezia e poi la nomina con il gestore della crisi di sovraindebitamento perfetto ottimo consiglio e adesso invece ringraziamo l'avvocato Marco Giorgio e proseguiamo con le nostre notizie grazie un progetto approvato dalla giunta comunale di Venezia su proposta dell'assessore Francesca Zaccariotto prevede l'impegno da parte dell'amministrazione per garantire la mobilità di tutti in città soprattutto alle persone affette da disabilità verranno così realizzate quattro rampe nuove sul ponte lungo ponte della Calcina ponte incurabile ponte cabalà in fondamenta delle zattere un intervento in un'ottica che prevede di coprire il meno possibile i ponti stessi e ancora la giunta sempre ieri ha anche approvato interventi di manutenzione ordinaria della viabilità in terraferma per un importo di quasi 360 mila euro interventi di rissanamento della pavimentazione e dei marciapiedi inoltre sono stati anche approvati poi altri 150 mila euro che andranno invece al ripristino funzionale di un fabbricato del cimitero di Mestre un impegno che stiamo cercando di portare avanti nonostante le difficoltà di bilancio così si espressa poi l'assessore Francesca Zaccariotto e oltre ai lavori di ristrutturazione delle procuratie vecchie in piazza San Marco lavori anche per risistemare la rete elettrica Enel infatti provvederà ad effettuare uno spostamento dei cavi elettrici posizionati sulla facciata dello storico edificio cavi elettrici che verranno rimossi o in altri casi verranno risistemati in modo da non essere visibili la maggior parte dei lavori è stata completata nei prossimi giorni nuovi impianti saranno collegati alla rete questa mattina c'è già stata una sospensione della fornitura di energia elettrica programmata questa sospensione anche per domani e prosegue la battaglia sui tagli alla sanità secondo le parti sociali e la sigla dei pensionati CGL i servizi sanitari locali necessitano di ristrutturazioni e di riorganizzazione in modo da essere più efficace specie per quelle fasce più fragili come i malati cronici e gli anziani impossibilitati nella maggior parte delle volte ad accedere agli ospedali una lotta di sensibilizzazione con volantini e una raccolta firme in ballo anche la questione del distretto sanitario di Marghera in via Tomaseo considerato inadeguato proprio alle esigenze della cittadinanza con la previsione dello spostamento nella ex scuola Monteverdi di Piazzale Giovanacci più ben fornita anche per quanto riguarda la logistica quindi più mezzi pubblici vengono poi ribadite altre proposte come i 20 minuti in più per la vestizione dei lavoratori con obbligo di divisa l'accesso alla mensa e l'aumento anche del valore dei buoni pasto domani si discuterà di tutto questo con oltre alle progressioni di carriera anche orizzontali per il 2017 e adesso passiamo alla cronaca con la tragedia in Brasile è morto a Fortalesa in Brasile il mestrino residente a Carpenedo Roberto Bartolucci di 50 anni ci andava in vacanza almeno 20 giorni all'anno venerdì mattina si era sentito male gli uomini della part hotel dove alloggiava l'hanno visto sudato e a malapena riusciva a parlare portato in ospedale è stato ricoverato in terapia intensiva poi il decesso con l'ipotesi più plausibile che a causare la morte sia stata una infezione l'uomo infatti due giorni prima aveva mangiato frutti di mare in un chiosco per strada e a Marcon ieri l'addio straziante al piccolo Nicolò il bimbo di 4 anni rimasto schiacciato dall'armadio in casa durante una serata di festa una folla per l'ultimo saluto al piccolo nella chiesa dei santi patroni con i genitori anche il fratellino più grande e tutti i familiari i genitori degli amichetti dell'asilo anche il sindaco Matteo Romanello e alcuni assessori al passaggio del feretro i negozianti hanno chiuso la loro attività e il comune ha rispettato il lutto cittadino parliamo adesso ancora di lotta contro lo spaccio di droga a Mestre sembra essere arrivata anche la cosiddetta droga Yaba conosciuta anche come droga della pazzia o droga di Hitler all'apparenza si presenta come una caramella di colore rosso in realtà è una droga sintetica a base di metanfetamina con effetti devastanti in grado di provocare danni irreversibili al cervello e al sistema cardiovascolare può essere inalata ma anche ingoiata oppure polverizzata e sniffata costa dai 5 ai 10 euro a pasticca questa l'ultima frontiera della droga nord-est è stata prima sequestrata a Marghera poi a Monfalcone lo spaccio però è florido soprattutto appunto a Marghera e a Mestre e adesso invece torniamo alla pagina sportiva per il basket bene le squadre veneziane l'umana Reier maschile ha vinto domenica nel parterra avversario per 77 punti contro i 74 della Happy Casa Brindisi gli oro granata seppur stanchi risultano imbattibili tre vittorie su tre una quarta se si conta anche la Champions League durezza mentale per i campioni d'Italia che nel finale poi hanno permesso di mettere il punto della vittoria grazie alla tripla di Bramos bene anche la Reier femminile che ha vinto in casa contro Schio per 74 a 60 grande difesa e solidità mentale anche per le ragazze di coach Liberalotto ebbene anche nel calcio il mestre di mister Zironelli ha sconfitto per un gol a zero la Reggiana gol di Rubbo al 29esimo un traversone di Beccario sul secondo palo per sottovia Rubbo riprende ed infila in diagonale il Venezia invece pareggia 3 a 3 nel campo dell'Ascoli per il Venezia il Venezia ha realizzato Zigoni Marsura e Geio e il mister Pippo Inzaghi invece ha ricevuto la premiazione come miglior allenatore della stagione sportiva 2016-2017 quella che lo ha portato a dominare il girone B di serie C e a conquistare la Coppa Italia di categoria questa per noi era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento alla prossima edizione buon proseguimento con Caffè TV 24